Ha diviso la città in due finendo anche la ribalta della stampa nazionale con un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano, la quasi rissa tra il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e alcuni dei manifestanti che sabato 5 gennaio erano presenti all'Aquila per protestare contro il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, in vista alle bancarelle della Fiera dell'Epifania per la campagna elettorale. Un battibecco, un parapiglia registrato dalle telecamere e dai cellulari di alcune testate online locali e che saranno quasi certamente acquisite per eventuali indagini e approfondimenti ma che accende l'inevitabile polemica politica. Per le opposizioni una pessima figura, quella del sindaco che si lascia trascinare dalle proteste, per i consiglieri di maggioranza invece, chi offende il primo cittadino va a colpire l'intera città. Legittimamente ci saranno delle parole forti, delle parole gridate, offensive, quello che volete, ma manifesti nella libertà di poterlo fare, perché non ci dimentichiamo quando la libertà viene, cioè se tu il diritto di manifestazione lo riduci, riduci anche la democrazia. Il sindaco che dice? Invece la sua indola di effa scenoroso, cioè quindi squadrista di Casa Pound, eccetera, eccetera, che gli fa? Fa superare a lui il cordone di polizia e aggredisce un manifestante. Poi certo ci sarà un altro che con una manata gli ha fatto cadere gli occhiali. È stata una brutta pagina nella storia di questa città, si apre nel peggioro dei modi un anno che per l'Aquila doveva rappresentare un anno di bilancio e di riscossa, quello del decennale, ma soprattutto che doveva partire con un aspicio di unità. Invece consentendo questa manifestazione della visita di Salvini, un comizio politico all'interno di una festa, che era la festa di tutti, quella degli Aquilani, ha determinato quello che si temeva sarebbe successo, poi nel peggiore dei modi, con uno scontro tra il sindaco e i manifestanti, che è stata veramente una brutta immagine. Commento in una maniera assolutamente negativa perché il sindaco della città resta il sindaco della città e rappresenta un'istituzione. Avere offeso Pierluigi Biondi significa offendere il sindaco della città e la città, da parte di quattro personaggi che ormai rappresentano un pochettino la pensione politica di una sinistra becera che non ha più spazio da nessuna parte. e condanno assolutamente questa azione di alcuni personaggi e si dicono di sinistra perché la sinistra vera è ben altra cosa. Questi sono personaggi ormai ai margini della politica e che rappresentano il nulla. Peraltro quattro soggetti di fronte a migliaia di persone che invece hanno voluto godersi la Befana. Che non possa camminare il sindaco per la città perché viene offeso e aggredito in maniera vile è una cosa inqualificabile. Questa è la mia indole, sono fatto così, non ingicandiamo un caso che tutto sommato va ricondotto al momento. Questo il commento di Biondi che a pochi istanti dal fatto ha commentato la rissa sfiorata pubblicando un post sul suo profilo Facebook. Per me la vicenda è chiusa, ha scritto cercherò di capire perché quel ragazzo polemizzasse con me. Capisco che si possa polemizzare con Salvini, quello che invece non mi è chiaro è perché sia venuta a dire a me che ho distrutto l'Aquila.